Riccardo Poletto, Giovanni Reginato, Paola Bertoncello e Giovanni Battista Cunico sono loro i quattro che il 9 marzo si giocheranno la candidatura del centro-sinistra a sindaco di Bassano. Un unico programma, un manifesto politico programmatico per il quinquennio 2014-2019 che le forze aderenti alla coalizione hanno condiviso e sottoscritto. Solidarietà, partecipazione, inclusione, bene, comune, trasparenza e rispetto delle regole, i punti cardine comuni a tutti e quattro i candidati che hanno ben chiaro cosa ha bisogno Bassano, a cominciare dall'attuale segretario PD cittadino Giovanni Reginato. Bassano ha bisogno di un rilancio, ha bisogno innanzitutto di recuperare dei posti di lavoro perché purtroppo siamo in una grave crisi. Bassano ha bisogno di continuare sul risanamento del debito, Bassano ha bisogno del tribunale, Bassano ha bisogno di una città unita. 41 anni, insegnante Riccardo Poletto, oggi consigliere comunale, è pronto a mettere a frutto l'esperienza maturata in questi anni. Penso di poter guidare con una squadra molto variegata un progetto di rinnovamento della città. Ha bisogno di creare legami molto forti, molto forti tra cittadini per affrontare le emergenze sociali, ci sono problemi di lavoro e di casa e legami molto forti col territorio e con le città compressoriali ma direi anche con Vicenza, Padova e Treviso per generare sviluppo e lavoro. Si mette invece in gioco il 27enne renziano Giovanni Battista Cunico. Questo è il tempo del coraggio, il tempo delle scelte coraggiose, delle cose concrete da fare perché non c'è più tempo da perdere. Portare innovazione, idee nuove, freschezza nella città, quindi vivo veramente con entusiasmo queste primarie e con un senso di responsabilità anche. Dirigente scolastica, 65 anni, bassanese doc, Paola Bertoncello punta sulla cultura. Bassanio ha bisogno di tante cose ma soprattutto di valorizzare, secondo il mio punto di vista, il suo patrimonio culturale, ambientale, artistico, museale, di valorizzare il turismo perché in questi tempi di crisi è importante per il commercio e per le attività lavorative di Bassano portare gente qui. Saranno i bassanesi il 9 marzo a decidere dunque chi di loro quattro li rappresenterà come candidato sindaco del centro-sinistra.